Sono Pellegrino Artusi. Sono nato a Forlimpopoli nel 1820, per poi trasferirmi definitivamente a Firenze nel 1851. Unico maschio di 13 figli, per lungo tempo mi sono occupato di commercio di tessuti, continuando l'attività della mia famiglia, ma non ho mai smesso di coltivare le mie passioni letterarie. Sono noto per il mio manuale pratico per le famiglie, la scienza in cucina e l'arte di mangiare bene. Un testo che ha avuto un successo tanto travolgente quanto inaspettato, basato su un programma gastronomico semplice e alla portata di tutti. Vinto dall'insistenza di molti miei conoscenti, mi decisi finalmente di pubblicare il volume, la cui materia, già preparata da lungo tempo, serviva solo per mio uso e consumo. Ve lo offro dunque, da semplici dilettanti qual sono, sicuro di non ingannarvi, avendo provati e riprovati più volte questi piatti da me medesimo. Se poi non vi riuscirete alla prima, non vi sgomentate, sono necessari buona volontà e insistenza e con questo manuale pratico basta che si sappia tenere un mestolo in mano che qualcosa si annasca. La cucina è una briconcella, spesso ai volentieri fa disperare, ma dà anche piacere, perché quelle volte che riuscite o che avete superato una difficoltà provate con piacimento e cantate vittoria. Questo ricettario rappresenta il mio contributo alla costruzione di una cultura nazionale per un'Italia finalmente unita. Dopo l'unità del paese mi sembrava logica conseguenza il pensare all'unità della lingua parlata. Qualcuno ha affermato che la scienza in cucina abbia fatto per l'unificazione nazionale più di quanto non siano riusciti a fare i promessi sposi e in effetti avevo chiara la volontà di dar conto della ricchezza gastronomica del paese appena unito. Altri, invece, avevano sentenziato che questo libro avrebbe avuto poco esito. Vista la difficoltà di trovare un editore disposto a finanziare il manuale di cucina decisi di stampare il libro a mie spese. Lo distribuivo per corrispondenza direttamente dalla mia dimora e questo mi permetteva di costruire uno stretto e fruttuoso rapporto con il pubblico. Giungevano ogni giorno lettere con consigli, suggerimenti, commenti alle ricette contenute nel libro che in poco tempo si è arricchito di oltre 300 ricette, oltre le 475 già presenti nella prima edizione. Diffidate dei libri che trattano di quest'arte. Sono la maggior parte fallaci o incomprensibili, specialmente a quelli italiani, meno peggio i francesi. Al più al più, tanto dagli uni che dagli altri, potrete attingere qualche nozione utile quando l'arte la conoscete. Se non si ha la pretesa di diventare un cuoco di baldacchino, io non credo sia necessario di nascere con la cassaruola in capo. Basta la passione, molta attenzione e l'avvestarsi precisi. Il miglior maestro è la pratica. Poi scegliete sempre, come materia prima, roba della più fine, che questa vi farà figurare. Ma non vorrei che per essermi occupato di culinaria voi mi gabbellaste per un ghiottone o per un gran pappatore. Protesto, semmai, contro questa taccia poco onorevole, perché non sono né l'una né l'altra cosa. Amo il bello e il buono ovunque si trovino e mi ripugna di veder strassiata, come suol dirsi, la grazia di Dio. Amen.